Vuoi dimagrire in modo semplice e naturale? Spesso i chili in più sono dovuti all'accumulo di liquidi e tossine che ci fanno sentire gonfi e appesantiti. Per eliminare tali eccessi dal nostro organismo, ci vengono in aiuto i drenanti depurativi, che depurano il corpo e snelliscono la silhouette in breve tempo. Se sei riduce da un periodo stressante o dalle abbuffate delle feste, hai probabilmente bisogno di disintossicare il tuo organismo. Quando la bilancia segna un aumento di peso, non sempre si tratta solo di ADP in più. Spesso si tratta di ritenzione idrica, dovuta a pasti irregolari o a cibi elaborati che affaticano il lavoro di fegato e reni, intossicando l'organismo con tossine difficili da smaltire e che rallentano il metabolismo. I liquidi in eccesso, carichi di scorie, si accumulano nei tessuti facendo gonfiare la pancia, i fianchi e le gambe. Anche senza pesarti puoi accorgerti di avere una taglia in più, perché gona e pantaloni stringono in vita. Il metodo migliore per smaltire i liquidi è quello di assumerne molti. Infatti in questo modo si favorisce il ricambio idrico dell'organismo. L'acqua è la bevanda più adatta allo scopo e ormai tutti sanno che dovrebbero bere circa 2 litri al giorno di questa bevanda per restare in salute. Questo discorso vale anche di più quando si ha bisogno di dimagrire, perché l'acqua accelera il metabolismo e mantiene efficienti i principali organi depurativi. Naturalmente non puoi vivere solo di acqua. Pink Fit Drain è il prodotto che fa per te. Devi sapere che contiene vergadoro, ginepro, tè verde, betulla, epilosella, magnesio e potassio. Qui sotto nell'articolo trovi maggiori dettagli. Queste sostanze riducono i livelli di colesterolo e di trigliceridi. Pink Fit Drain risulta utilissimo per contrastare gli effetti negativi del fumo e ha proprietà dimagranti, favorisce l'eliminazione dei grassi e promuove la perdita di peso. Le sue proprietà diuretiche e drenanti rendono Pink Fit Drain utile nel trattamento di inestetismi da accumuli adiposi e deliquidi come in presenza di cellulite, gonfiore alle cavilie ed emi delle arti inferiori e ritenzione idrica. Prova anche tu Pink Fit Drain. Sono sicura che ne resterai pienamente soddisfatta. Grazie a tutti.